Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruni, in questo momento mi trovo a Jakarta in Indonesia in un centro commerciale e guardate qui questo posto che look veramente molto interessante è un ristorante ricavato in un vagone ferroviario siamo nei piani alti di un grattacielo, in un centro commerciale enorme bellissimo come è stato aggingato dal punto di vista, guardate qui addirittura abbiamo la riproduzione di una città all'italiana il posto è bellissimo, passeggiamo su questo ponte, vediamo se si riesce a sbirciare cosa c'è di sotto ecco abbiamo i negozi, molto bello, adesso mi avvicino un po' per farvi vedere anche voi qualche particolare sembra, ecco adesso io ho questi particolari, qui sembra di stare nella metropolitana di San Pietroburgo a Vtovo o la metropolitana di Mosca, diverse fermate hanno questo stile e lì sembra stare a San Pietroburgo, quella cosa lì del vagone mi ricorda un po' il metro club a San Pietroburgo qui ci spostiamo avanti e raggiungiamo questo spazio tutto scolpito, bellissimo sembra veramente, ecco qui sembra di stare nella metropolitana di Mosca questo spazio qua non sembra di stare in un centro commerciale quella differenza è che qui è tutto realizzato in maniera molto fine molto bello, da lì da quella vetrata si vede fuori la città i grattacieli, abbiamo il mulino che gira è bello questo posto, raramente ho trovato centri commerciali arredati con stile di solito i centri commerciali possono essere moderni possono essere folkloristici tipo bazar molto con le cose per terra, molto terra a terra però molto autentici poche volte invece sono arredati con gusto e stile come qui in Indonesia ecco a Jakarta perché poi negli altri posti c'è veramente tanta povertà e altri posti si differiscono ecco guardate qua se non sembra di stare a San Pietroburgo ok ragazzi ci sentiamo alla prossima e ve la do io l'Indonesia